Verrà inaugurata oggi, alle 17, la mostra dedicata all'ascito della famiglia Mario Fornaro, la nuova collezione recentemente donata al Museo del Territorio Biellese, dalla famiglia il cui nome è legato all'omonima sartoria presente in città fin dagli anni 20 del Novecento in Via Italia. La collezione di dipinti, frutto della passione di tre generazioni, è costituita da una trentena di opere arrivate al Museo di Biella per volontà testamentaria di Marisa Fornaro. Le collezioni del Museo, spiega l'assessore alla cultura del comune di Biella, Massimiliano Gaggino, sono strettamente legate al fenomeno del collezionismo privato locale, che ha conosciuto momenti di massima espressione tra gli anni 30 e 60 del Novecento. Donazioni come quella di Fornaro sono gesti importanti, che permettono anche di far riemergere dipinti finora poco noti e arricchire i cataloghi dei singoli artisti. Pertanto sono davvero felice di inaugurare questa mostra affinché i cittadini biellesi possano godere delle opere che sono state loro donate e in parte restaurate nell'amministrazione comunale.